Vinitaly 2024 per Dr. Wine, l'azienda si chiama Brigaldara ma il nuovo progetto è Locanda Casevece e noi ce lo facciamo raccontare da uno dei rappresentanti della famiglia Cesari, Lamberto. Casevece è il vigneto d'altitudine Brigaldara, si trova in Valpantena, sopra Grezzana, nelle colline dietro Verona ed è stata una scommessa enologica di oltre 30 anni fa di mio padre con il professor Ferrarini quando decisero di piantare a quasi 500 metri d'altezza. Questo vigneto ci ha regalato Lamarone Casevece e da una decina di anni anche il Valpolicella Superiore Casevece, è diventato vigneto di punta il crew dell'azienda. Dall'anno scorso abbiamo deciso di intraprendere questa avventura dell'ospitalità della Locanda Casevece che è gestita da me insieme a mio fratello e al resto della famiglia, dove ospitiamo un piccolo ristorante, abbiamo delle camere e le possibilità di fare degustazioni ed è diventato un punto di ristoro per i passeggiatori, per i cicloturisti, per gli amanti delle passeggiate a cavallo ed è la possibilità di accogliere gli amanti del vino e mostrare questo territorio e questo ecosistema emerso nella natura.